amici di pop up ben trovati in collegamento con noi da scandiano massimo ambrogi dei nuova civiltà rock band che possiamo definirla cristiana massimo ciao più che cristiana di ispirazione cristiana ispirazione cristiana ben trovato massimo allora nuova civiltà e poi tra l'altro il nome non solo della della band ma anche il nome dell'associazione culturale della vostra associazione culturale di ispirazione appunto cattolico francescana festeggiate i vostri 26 vostri primi 26 anni di attività con un album che si intitola dentro la storia vuoi raccontarci quindi chi sono in nuova civiltà e qual è la vostra storia ma in nuova civiltà sono persone nello specifico sette che hanno insieme la passione per la musica e attraverso la musica cercano di raggiungere le persone nella società nei luoghi a volte più impensabili o anche luoghi più semplici come possono essere teatri palazzetti o alle comunità di recupero e attraverso la musica quindi portare quello che può essere un momento di gioia e speranza un incontro sicuramente con l'altro è una dimensione assolutamente nuova i 26 anni sono talmente tanti talmente passati veloci che riuscire a focalizzare anche solo un attimo è un buon'impresa perché voi sai gli attimi sono soggettivi ciò che può essere importante per me per qualcun altro è una sciocchezza o comunque meno importante sicuramente di importante c'è il fatto che siamo tutti ancora qua voi siete tra l'altro impegnati so da sempre nell'ambiente nel mondo francescano che cosa significa essere laici francescani oggi? quello che è sempre significato essere francescano in generale il francescanesimo nasce come modo di strumento di evangelizzazione nella strada nelle strade lunghi i crocicchi delle vie se tu pensi ai tempi in cui francesco si muove l'unico concetto che c'era di realtà religiosa era monastica francesco rompe questo schema già nel 1200 per cui essere francescani laici significa essere francescani già con francesco quindi nelle strade a livello pedagogico pensa che nell'università di pedagogia si pensa che francesco sia stato il primo educatore di strada oggi si ne parla tanto anche a livello politico di questi personaggi soggetti professionali che appunto vanno nelle strade a incontrare i giovani nei luoghi più disparati francesco l'ha fatto 800 anni fa e oggi si ne parla ancora quindi essere francescani laici significa essere francescani nella strada sulla strada massimo tu sai che questi nostri incontri vogliono essere anche un po' una testimonianza raccontare esperienze di fede rivolgendosi soprattutto a chi è in lontano a chi è lontano a chi magari è ancora in ricerca c'è un'esperienza di fede o di provvidenza che vuoi raccontarci vissuta da te personalmente? la domanda è molto bella ma è anche molto ambigua perché quando si parla di queste cose quando si fanno queste domande si presuppone un qualcosa di miracoloso un evento miracolistico che abbia in qualche modo segnato un passaggio dal prima al dopo questo tipo di risposta è molto pericolosa perché vuol dire che chi non ha questo tipo di miracolo è destinato alla dannazione non è così il percorso è un percorso molto più lente naturale che coinvolge tutti se mi guardo indietro posso dire che anche la l'incontro più insignificante allora oggi ha un senso perché era dentro un progetto molto più ampio ciò che invece va a differenza e questo lo dico veramente con grande entusiasmo è uscire dalla paura di rispondere al bene oggi si dà per scontato che il bene sia qualcosa di costruibile materialmente quello è semplicemente un'espressione esterna del bene ma il bene interiore che è quello che ti porta a incontrare il Cristo è un cammino molto lungo dicevo prima di San Francesco di San Francesco si dice che a un certo punto a San Damiano il crocifisso gli abbia parlato ecco questo è un aspetto miracolistico che noi abbiamo bisogno per descrivere un santo ma è il momento in cui è entrato in chiesa prima che il crocifisso parlasse non è un evento e quando lui è stato fatto prigioniero non è un evento e quando lui era malato non è un evento vedi che allora ci sono tanti eventi che lo hanno portato ad incontrare il Cristo così questo vale anche per la nostra vita ci sono degli eventi piccoli insignificanti come la per la porta a incontrare una persona che però nella storia dell'uomo quindi nella tua storia e nella mia storia assume un significato alla luce di un cammino molto costante che è il cammino di fede forse magari allora possiamo dire che dobbiamo essere capaci di leggere questi segnali dobbiamo essere capaci di fidarci di fidarci del bene di non avere paura già Giovanni Paolo II nella sua famosa omelia quando fu nella messa in cui lui saliva al soglio papale diceva non temete aprite la porta a Cristo su questa linea ha continuato ad Hatzinger lo stesso Papa Francesco sta gridando questo ai giovani non abbiate paura insomma non abbiate paura di rispondere sì oggi si ha la paura oggi è molto più facile rispondere a degli effetti immediati ad una causa effetto che ti rende un riscontro come dire un piacere immediato mentre nel cammino di conversione quindi un cammino che converge verso è un cammino più lento e quindi la prima cosa non aver paura perché la paura è ciò che ti blocca paradossalmente la paura dice che dipende dal posto di Dio perché io per paura non faccio delle cose quindi sto dando una forza, una ragione e una potenza alla paura esattamente quella che dovrei dare al Cristo parliamo proprio di giovani allora Massimo è giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro con Papa Francesco che GMG ti aspetti? la domanda potrebbe sembrare banale però non vuole essere una domanda banale insomma prima di tutto non bisogna fare previsioni perché Papa Francesco è imprevedibile quindi questo significherebbe andare ancora una volta non aver capito chi è questo personaggio cioè cercare di mettere all'interno dei schemi che non sono assolutamente fattibili nei suoi confronti per cui la prima cosa che io eviterei è quella di fare delle previsioni sicuramente mi aspetto però ecco una GMG molto molto vivace è una GMG che va a recuperare il cuore stesso della fede la rivoluzione che Francesco sta facendo all'interno della Chiesa non è una rivoluzione né politica né tanto meno organizzativa perché da tutto questo punto di vista non ha strafatto non ha distrutto la Chiesa ma sta facendo una rivoluzione di fede sta riportando in maniera semplice il Cristo all'origine del cuore dell'uomo e questo credo che continuerà negli incontri che lui farà a Madrid come ha fatto nell'incontro nella parrocchia di Santa Elisabetta fuori Roma qualche giorno fa insomma Massimo qualcosa dell'album dentro la storia prima di chiudere e di dare un po' i vostri contatti l'album dentro la storia è un momento forte è il punto di arrivo dei 25 anni, 26 anni ma è anche il punto di rilancio per i prossimi 25, 26 anni è un momento in cui ci si è guardati dentro, ci si è guardati nel profondo delle cose fatte delle cose che si potevano fare meglio di quelle non fatte e di quelle che si vogliono fare e forse per certi versi il tempo della meditazione e riflessione di chi ha 40 anni non più 20 però credo che sia necessario, ma sia anche necessario raccontarlo non aver paura di raccontarlo, non aver paura di spogliarsi dei propri sentimenti quindi sicuramente è un album molto sentimentale o quantomeno un album molto interiore ci sono dei brani, leggevo nel comunicato stampa del vostro album esplicitamente contesti, esplicitamente cristiani, no? sì, due, Emmaus e Saluto te è la prima volta che facciamo canzoni così chiare perché nel nostro cammino di conversione abbiamo sempre cercato un linguaggio più trasversale devo dire che forse anche questo fa parte della maturità insomma del cammino che dicevo prima, no? di non aver paura arriva anche il momento in cui in un qualche modo devi dare il nome giusto alle cose giuste e quindi anche scrivere una canzone in maniera teologicamente più chiara era il segnare di un cambiamento, non di un cammino, di un cammino che avanza grazie Massimo allora per concludere quali sono i vostri contatti? com'è possibile entrare in contatto con voi? il contatto con noi più sicuro e più certo è quello tramite la pagina di Facebook quindi nuova civiltà ci possono tranquillamente trovare e chiedere l'amicizia e la daremo sicuramente e attraverso questa pagina restare in contatto sia sui nostri concerti sia su quello che noi in qualche modo continuiamo a pensare, a dire, ad ascoltare e a fare allora grazie Massimo io ti auguro buona estate a te e a tutte le nuova civiltà e buona GMG anche a te buona GMG, so che stai partendo quindi buon lavoro grazie